Una studentessa di 20 anni e il fidanzato di 23 anni di Laziano in provincia di Brindisi sono stati premiati dal sindaco Mino Maiorano per aver soccorso un immigrato in difficoltà. Quest'ultimo, un trentenne originario della Libia, era in attesa alla fermata degli autobus ma non era a conoscenza del fatto che, causa neve, la circolazione dei mezzi pubblici era stata interrotta. I due fidanzati non hanno dunque esitato quando hanno visto l'immigrato in difficoltà e l'hanno invitato nella loro abitazione. Durante la cerimonia di premiazione la studentessa ha poi raccontato che Friday ci ha parlato della guerra, della famiglia che non riesce a portare in Italia perché non ha ancora risorse sufficienti per farlo. L'immigrato, di fatti, in attesa di un lavoro stabile, passa le sue giornate all'ingresso di un supermercato aiutando i clienti con la spesa. Il primo cittadino si è detto orgoglioso dei due ragazzi e ha deciso quindi di invitare loro e Friday a Palazzo di Città per raccontare alla cittadinanza questo gesto di grande generosità.